C'è qualcosa su cui tutti gli psicoanalisti sono d'accordo, è la tecnica delle libere associazioni ideata da Freud, ma ripresa anche da Jung e trasformata nel test delle associazioni verbali. Cosa fa Freud appena vede il suo paziente? Lo fa accomodare sul lettino e lo invita a dire tutto ciò che gli passa per la mente. Freud vuole una cosa molto precisa, vuole mettere il suo paziente nelle condizioni di poter parlare liberamente, vale a dire senza pensare troppo a ciò che dice. Anche Jung persegue questo scopo studiando come funzionano le associazioni di parole, le associazioni di idee e di concetti, ma anche le associazioni di immagini nei sogni ad esempio. Insomma Freud e Jung iniziano a chiedersi che relazione c'è tra le parole, sia che vengano proposte dallo psicoanalista e sia che vengano prodotte dal paziente. Quali sono le regole secondo le quali si associano? Platone è il primo ad affermare che le idee si associano per somiglianza oppure si associano per contrasto. Aristotele aggiunge un terzo elemento, la contiguità, però queste sono grandi categorie e dentro c'è un po' di tutto. La somiglianza può persino essere una semplice assonanza. Insomma ci sono dei nessi tra le cose, siano esse immagini o parole, e sono nessi non casuali, ma ci sarebbe un qualche legame di causa-effetto. La cosa che interessa Freud e Jung è la relazione di similitudine che fa scattare un movimento di contenuti tra conscio e inconscio e soprattutto gli interessa capire perché le persone hanno pensieri ricorrenti che si sviluppano intorno a dei temi centrali. Da dove spuntano questi pensieri ricorrenti e questi temi importanti? Certo si intuisce che vengono dall'inconscio. Così si iniziano ad indagare le associazioni ricorrenti per individuare l'origine dei comportamenti patologici, ma non solo. In particolare Jung propone di studiare l'associazione delle idee di persone mentalmente sane e lo fa presentando batterie di parole stimolo. Jung si accorge che spesso le associazioni avvengono per somiglianza, ad esempio da mela a pera, da mela a tela, ela, oppure avvengono per categorie da albero a pino, da gatto ad animale. Ma la scoperta maggiore è che certe associazioni sono ricorrenti e senza un apparente motivo. Il motivo deve essere di natura inconscia e qui ci accorgiamo che c'è qualcosa di importante da capire. Ora bisogna immaginare che le parole sono dei nodi di una rete e la rete è una rete semantica, una struttura fluida che lega fra loro nodi concettuali. Per esempio un nodo concettuale potrebbe essere tutti i mammiferi. È una struttura fluida perché è condivisa, ovvero ciascun elemento si connette con altri nodi. Per esempio la parola cane si connette con il concetto di fedeltà. Questo non vuol dire che pensiamo tutti alla stessa maniera, anche perché la rete semantica di ciascuno di noi è più o meno fitta. E poi ci sono le nuove conoscenze che aggiungono materiale alla struttura di base condivisa. Il punto è che le competenze acquisite si intrecciano alle memorie passate consolidando certi percorsi mentali associativi. Lo stimolo cane evocherà contenuti diversi per un veterinario o per un fumettista o per una persona che è stata morsa da un cane e quindi ha paura. Tutti però potrebbero in prima istanza rispondere gatto, cane, gatto, ma poi le loro catene ed associazione probabilmente prenderanno strade diverse. Ma c'è una cosa importante. A stimoli semplici, quindi non ambigui, come la parola cane, è naturale dare una risposta altrettanto semplice e prevedibile, ma se gli stimoli sono più complessi e soprattutto ambigui avremo molte interpretazioni possibili e queste interpretazioni ci parleranno della persona in questione, cioè saranno personali. Jung capisce questo e cosa fa? Mette appunto un test di associazioni verbale che permette di esplorare il contenuto emotivo di un concetto tramite l'uso di parole che fungono da stimolo. In pratica il paziente proietta determinati contenuti sull'oggetto che funge da attivatore. Naturalmente per Jung le risposte del paziente vanno lette e inquadrate nella sua caratteriologia che comprende i due assi di introversione e destroversione, le quattro funzioni psichiche, cioè sentimento, pensiero, sensazione ed intuizione. Però ciò che interessa capire è che le associazioni verbali sono profondamente legate alla persona, alla sua storia, al suo carattere e quindi alla sua personalità. E questo si può fare non solo partendo dalle parole, ma anche dalle immagini che possono evocare alcune tra i più diffusi archetipi come ad esempio l'ombra, il vecchio saggio. Ma il punto è che ogni situazione può essere illustrata ricorrendo ad un archetipo e la persona tenderà a sceglierne uno piuttosto che un altro in funzione di ciò che proietta e quindi in funzione di come lavora il suo inconscio. Jung parla dell'uomo come una sorta di storia vivente, l'uomo è una storia vivente, cioè noi siamo la nostra storia, sia personale che collettiva. E allora c'è un test, il test di appercezione tematica di Murray, il TAT, che si basa sulle proiezioni dei soggetti che devono costruire delle storie. Anche i sogni sono delle storie o delle scene dotate di significati inconsci che ci parlano del sognatore. Jung ad esempio utilizza la tecnica dell'amplificazione delle tematiche inconsce che emergono nei sogni, facendo riferimento a temi mitologici e letterari ed amplifica il meccanismo della compensazione secondo il quale l'inconscio attraverso i sogni tenderebbe a compensare l'atteggiamento unilaterale della coscienza. Anche nella relazione stessa tra paziente e terapeuta emergerebbe questa tendenza inconscia a compensare. La finalità comunque del percorso psicoterapico è quella di portare il paziente alla risoluzione del sintomo e questo avviene attraverso un procedimento di delucidazione dei meccanismi inconsci che si rendono visibili nella relazione stessa tra terapeuta e paziente. Il coinvolgimento affettivo di entrambi porta poi alla riattivazione dei conflitti inconsci irrisolti nel paziente che vengono quindi proiettati nelle immagini e nelle associazioni verbali e anche nei racconti. Ma come nascono questi racconti? Da dove provengono queste associazioni che fa il paziente? Provengono dalla profondità della psiche dove esiste una disposizione a produrre motivi ed immagini tipiche. Se consideriamo l'associazione verbale come manifestazione della realtà psichica individuale ci accorgiamo che l'interpretazione di un'immagine o una parola o un nesso tra le parole esprime qualcosa del soggetto e cioè un'incarnazione del suo modo di essere, dei suoi complessi o delle sue parti scisse o meglio ancora delle sue difese e delle sue resistenze. Insomma così come sogno e sognatore sono intrecciati allo stesso modo il paziente che associa liberamente è la sua associazione ovvero le parole che dice lo rappresentano, rappresentano qualcosa di lui che lui non conosce. Il che significa che ogni associazione è un'espressione di tendenze presenti nell'inconscio del soggetto. La storia raccontata dal paziente, gli sviluppi della trama del racconto contengono un'autorappresentazione del processo psichico e questo ci fa capire che lungo il cammino della vita noi non facciamo altro che incontrare sempre di nuovo noi stessi sotto mille travestimenti. Non a caso Jung dice gli altri siamo noi. Ora entrando nello specifico del test di associazioni verbali, lo psicanalista pone davanti al paziente una lista di parole con una penna ed un cronometro e gli chiede di rispondere ad ogni parola con un'altra parola il più presto possibile. Poi viene misurato il tempo di reazione per ogni parola e successivamente il paziente rivela gli impedimenti e le sensazioni di fastidio che le parole gli hanno eventualmente provocato. Per la valutazione dei risultati il punto di riferimento più importante sono i tempi di reazione perché rappresentano l'influenza che ha esercitato l'inconscio sulla produzione delle risposte. Se il tempo è lungo vuol dire che c'è stato un complesso a tonalità affettiva che ha disturbato la persona. In questo modo Jung cerca di misurare l'effetto dell'inconscio sulle attività della coscienza. Un'altra tecnica per far emergere l'inconscio consiste nel far raccontare al paziente una favola con dei personaggi. Le persone che si identificano con personaggi potenti come re, principi, generali manifestano la tendenza a compensare il loro io fragile. Se compare un animale ferito ed è a sangue freddo questo per Jung significa che è la spia di una destrutturazione dell'io con relativa regressione. Vedete quante potenzialità ha la tecnica delle associazioni. Ma anche Freud non è da meno quando invita il paziente ad associare liberamente. In questo caso non c'è una parola stimolo iniziale ma la persona viene invitata a parlare liberamente e nasce così un discorso che si incentra intorno ad una tematica ricorrente. Si tratta di associazioni di concetti che formano una storia e il problema è che la persona non è completamente libera di tessere un racconto svincolato dalle sue problematiche inconsce in quanto è portatore e portatrice di resistenze e tabù che condizionano il suo racconto e lo limitano. Lo scopo finale della terapia psicologica è proprio quello di rendere la persona più libera ma per fare questo bisogna stimolare in lei la spontaneità, l'immaginazione e quindi la fantasia. In pratica deve diventare una persona desiderante perché? Perché molti problemi nascono proprio dalla mancanza di slancio creativo e conducono alla perdita dell'immaginazione e del desiderio. Potremmo anche dire che la maggior parte dei problemi che le persone hanno nascono da una repressione di sentimenti. Il trauma reprime la persona, la limita, la condiziona e quindi la impoverisce. Una vita piena invece è ricca di entusiasmo, di curiosità, non è ripiegata su se stessa, non è narcisistica, non è egoistica. Una vita piena non è improntata alla sete di potere o alla prevaricazione sugli altri ma anzi è per gli altri, è in relazione agli altri. Quindi in generale possiamo dire che il paziente è imprigionato in schemi rigidi perché è inchiodato ad un evento traumatico che emerge dalle sue associazioni non libere. E allora Freud cosa fa? Invita la persona a lasciarsi andare e a parlare liberamente. Questo diciamo da un lato per scoprire il trauma che emerge dai falsi nessi associativi tra le parole ma col fine ultimo di recuperare gli aspetti propulsivi della persona. Questa è la tecnica afroindiana ma in generale le migliori tecniche psicologiche sono state concepite non solo per andare subito al cuore del problema e quindi l'aspetto patologico ma anche per raggirare le difese in modo tale che la persona possa rompere la sua equazione a ripetere e appunto a superare i suoi limiti, i suoi problemi. In un certo senso si invita la persona a ribellarsi al suo modo abituale di pensare e quindi di agire. la tecnica funziona come una palestra di creatività. Questo è secondo me il comune denominatore di tutte le buone tecniche. L'insegnamento che ne viene fuori è la vita bisogna viverla senza difese, senza rigidità, come se fosse una continua associazione libera. E infatti cosa fa Freud? Invita il suo paziente a sdraiarsi sul lettino e a rilassarsi e a lasciare che qualcosa da dentro vada da sé, proprio come in un sogno in cui la verità non detta emerge dalle associazioni di immagini, malgrado l'io razionale non voglia. Le immagini danno voce all'inconscio, ma l'inconscio non è solo il luogo del trauma, è anche un'opportunità, è anche saggio l'inconscio. Ed ecco che la vita diventa in questo modo più ricca e varia. Questo è l'uomo ideale di Freud, ma anche di Jung, un uomo che parla, un uomo che esprime se stesso senza difese, uno che non è costretto a resistere al flusso della sua autenticità. È un uomo che non subisce passivamente, che non è una triste marionetta. Freud non vuole un fantoccio, ma una persona consapevole e libera di emozionarsi senza paura, libera d'amare. È chiaro che il trauma va visto ed elaborato, ma poi l'obiettivo delle tecniche psicologiche è quello di favorire la realizzazione di una persona aperta, altruista, dedita agli altri, che appunto desidera un altro e gli parla in modo sincero, non certo in maniera manipolante o narcisistica. Ora vi dico una cosa curiosa, sapete, non a caso Freud arriva a parlare di pulsione di morte partendo dal narcisismo. Non è un caso, il suo pensiero fa delle associazioni fra narcisismo e morte psicologica. La lezione che traiamo da questo è che siamo mortiferi quando siamo egoisti e pensiamo di essere autosufficienti o, come direbbe Lacan, pensiamo di essere uno. Se noi vogliamo crescere come uomini dobbiamo coltivare la strada che ci porta verso l'altro, all'insegna della libertà, una libertà che vuole esplorare il mondo, che tra l'altro è fatto da altri. Però questa libertà non è data, ma va guadagnata. All'inizio c'è il trauma, anzi per dirla corranche c'è il trauma della nascita, c'è l'egocentrismo. La libertà da se stessi va guadagnata e si guadagna parlando, ci dice implicitamente Freud, parlando ad un altro. Associando liberamente, che non è una cosa facile, né una cosa immediata, ma è una cosa da fare ad arte. Associare liberamente dovrebbe diventare il nostro stile di vita, ovvero un atteggiamento mentale che si fonda sul flusso libero delle idee e su sentirsi rilassati. L'io non deve cristallizzarsi, ma deve fluire per vedere gli eventi con occhi poetici. Diciamo che l'atteggiamento dell'io deve assomigliare un po' di più a quello dell'inconscio. Il pensiero inconscio consente di rileggere la vita delle persone andando oltre la letteralità dei singoli eventi, per intuire un progetto sottostante. Se il paziente è in grado di costruire metafore e lo fa emozionandosi, cioè erotizzando il suo presente, allora procede verso l'individuazione. Ecco che l'allenamento psicologico consiste in un potenziamento dell'immaginazione. In altre parole, noi dobbiamo liberare quell'istanza che in noi sa associare poeticamente. Qui sta la genialità di Freud, che capisce che non possiamo vivere pienamente senza la verità detta dall'inconscio. Allora dobbiamo imparare il linguaggio poetico ed erotico dell'anima. Cosa vuole l'anima? Cosa vuole l'inconscio? Freud e Jung sono chiari. L'amore è il ponte che ci permette di passare da un godimento autoerotico e quindi narcisistico ed egocentrico ad un desiderio che implica l'altro come un oltre cui tendere. Ecco cosa vuole l'anima? Vuole andare oltre. Oltre quell'io che crediamo di essere. Però per amare bisogna saper associare liberamente, agendo come se fossimo artisti, con uno lo slancio verso il mistero sia fuori che dentro di noi. La ricerca dell'altro, del resto, è decentramento, che ci sorprende e ci spiazza perché ci espone al grande rischio dell'abbandono, ma anche ad una straordinaria opportunità di crescita. Quando la persona associa liberamente l'io si slonga perché si crea una situazione emotiva e noi vediamo sedotti dalla realtà. Questo è il punto. L'associazione è uscire da se stessi e estroflettersi per guardare con occhi diversi. Guardiamo con occhi diversi in quanto siamo sedotti. Fateci caso, nessun autore ha mai criticato la tecnica delle associazioni libere usate da Freud o l'immaginazione attiva proposta da Jung. E moltissime tecniche, comprese quelle psicodrammatiche, vanno nella stessa direzione, cioè mirano a sviluppare un atteggiamento affettivo nuovo, di apertura e coinvolgimento. In altri termini, lo psicanalista vuole che il suo paziente abbia un desiderio più ampio, che vada oltre le sue illusioni, oltre le sue immagini ingannevoli. Se il suo immaginario è erretito, il suo sguardo è distorto. E allora cosa chiede il paziente? Chiede di essere riscoperto. È come se dicesse al suo psicanalista, guardami come sono, ma guarda anche ciò che io non vedo in me stesso e fallo esistere. E allora lo sguardo rinnovato dell'analista mette in condizione il paziente di vedersi con occhi nuovi. Ma per vedere oltre l'apparenza l'analista deve erotizzare il suo guardare. È Eros che suscita visioni, che ingenera l'anima e permette associazioni creative. Eros ci fa immaginare attivamente. Potremmo anche dire che è il transfert che ci fa immaginare attivamente. Perché l'Eros è ciò che permette lo sconfinamento dell'Io. L'Eros è una parola tessitrice di racconti. Se, come dice Hillman, i racconti curano quando curano, è perché sono fatti di Eros. Perciò la cura psicoanalitica è necessariamente una cura erotica. Ecco perché affinché si possa dare coscienza occorre che si stia con un altro. Occorre una relazione speciale perché chi e cosa siamo lo capiamo insieme ad un altro. Parlare a un altro, giocando un po' con le parole, cioè associando liberamente, ci porta a scoprire cosa potremmo diventare. Del resto psicoterapeuta e paziente sono chiamati a lavorare con parole nuove. immagini nuove. Sono chiamati ad avere uno sguardo rivoluzionario e un atteggiamento poetico. La psicologia ci insegna che sapere equivale a saper vedere, a saper sentire, a saper immaginare e quindi rinascere. Con i pazienti che non associano liberamente è difficile lavorare in analisi perché è proprio la parola libera che scompagina i vecchi significati e la parola libera, cioè decostruisce le menzogne, ma si tratta di una menzogna intrisa di sentimento e quindi capace di improvvisare. Quando il paziente improvvisa l'invisibile si mostra, in quanto l'incredulità viene sospesa e tutto può accadere. Il paziente entra in analisi per godere di un racconto libero. Infatti è l'inconscio il vero artefice del cambiamento psicologico. Si va in psicoterapia per farsi sorprendere da ciò che accade. Quando l'io prova meraviglia l'inconscio emerge e il discorso dell'anima è visibile. Quindi quando l'io improvvisa la psiche accade. Ecco perché associare liberamente o immaginare attivamente deve diventare il nostro stile di vita. Se da un lato c'è il trauma, che può essere il classico abuso sessuale, e ci sono le associazioni tra parole che evocano quel trauma, come ad esempio una palina da tennis, una mazza, una racchetta. Se da una parte c'è questo, dall'altra parte c'è la ridefinizione di un nuovo gioco, che non implica più un atteggiamento aggressivo e distruttivo insito in un'immagine ripetitiva che compare nella mente del paziente, ma c'è appunto la presenza di una nuova disposizione d'animo. Nessuno di noi è inizialmente libero di parlare e quindi di pensare e di agire e quindi di amare. Nessuno ha questa libertà, ma noi dobbiamo andare in questa direzione. Bene, io ho concluso. Se volete vedere altri video come questo potete consultare il mio sito www.robertoruga.it. Grazie, arrivederci.